salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video oggi a grande richiesta siamo tornati con una nuova classifica dei migliori ultimi tweaks di sidia usciti per ios 9 fino a 9.0.2 non perdiamo tempo e cominciamo subito bene e voglio iniziare dal tema icone che ormai mi state chiedendo tutti si chiama vexilium e lo applico tramite il team manager di anemone comunque qui sotto in descrizione trovate tutti i suoi dettagli ed anche lo sfondo che uso attualmente per la schermata home visto che anche quello mi è stato molto molto richiesto ma iniziando con i tweaks veri e propri abbiamo flash che ci fa apparire un bottone rapido per accendere la torcia dello smartphone quando saremo in una stanza buia per capire il livello di luminosità dell'ambiente in cui ci troviamo sfrutta il sensore posto sulla parte alta di ogni iphone tant'è che se lo copriamo con una mano per simulare il buio ecco che nella schermata di blocco in basso a sinistra appare questo quadrato giallo con il logo del fulmine che se cliccato attiva la torcia ovviamente la disattiva nel caso fosse già accesa questo tweak funziona davvero bene e l'ho trovato immediato e utile in molte notti quando mi sono dovuto alzare e non vedevo assolutamente nulla nella mia stanza buia il prossimo tweak è point and shoot disponibile solo per iphone 6s e 6s plus visto che sfrutta il 3d touch guardate infatti cosa succede se dal menu rapido di fotocamera premo scatta foto visto appare all'istante un riquadro che ci inquadra quello che vede la videocamera e con un semplice tocco potremo scattare una fotografia che ci verrà subito salvata nel rullino foto la stessa identica cosa funziona anche con la fotocamera anteriore dunque scatta selfie ma francamente la vedo un pochino più inutile purtroppo invece non supporta la registrazione di video dunque niente registra video registra moviola quelli apriranno l'applicazione come sempre successo andando nelle sue impostazioni possiamo da questa prima voce attivare o meno la raffica ossia tenere premuto per scattare una sequenza rapida di fotografie e poi volendo attivando la seconda voce present immediately e conseguentemente selezionando di default o la fotocamera davanti o quella dietro vediamo che quando faremo il classico 3d touch sull'icona della fotocamera al posto che il menu a quattro scelte appare direttamente la visuale della fotocamera che gli abbiamo impostato di default dalla quale potremo scattare come prima esattamente con un tocco il prossimo tweak è mockingbird e si tratta di un nuovissimo menu del multitasking che sostituisce quello originale questa è la sua struttura unica pecca che ci mette svariati secondi a caricarsi e certe volte può essere fastidioso nella parte bassa dello schermo troviamo una lista cronologica stile centro notifiche con tutte le notifiche per l'appunto che ci sono arrivate ovviamente cliccando su una di esse si mostrerà nel suo rispettivo luogo di provenienza nella parte alta invece abbiamo tutte le applicazioni aperte in particolare l'ultima usata occuperà metà schermo sinistra mentre nella parte destra avremo a gruppetti di quattro tutte le altre apps aperte nel multitasking tenendo il dito premuto su una di queste schede chiuderemo l'app dal multitasking questo vale sia per l'ultima aperta sia per quelle piccoline a destra dopo di lei unica pecca secondo me è che attualmente manca un modo per chiudere tutte le applicazioni in un colpo solo dovremo per forza farlo uno alla volta dalle sue impostazioni l'unica cosa che potremo fare sarà attivare il layout invertito ossia visuale delle notifiche in alto e menu del multitasking con tutte le applicazioni in basso molte volte quando abbassate il centro notifiche e andate nella sezione notifiche la trovate davvero piena di messaggi e avvisi che non fanno altro che intasarvela vero normalmente se vorreste chiuderle dovreste gruppo per gruppo giorno per giorno premere la x in alto a destra e riconfermare la cancellazione premendo cancella questo tweak è fantastico si chiama 3d touch to clear notifications e come suggerisce il nome è compatibile solo con iphone 6s e 6s plus perché permette di cancellare tutte le notifiche esistenti in un colpo solo facendo semplicemente la pressione 3d touch in un punto vuoto dello schermo apparirà quindi il bottone clear all che se premuto in pochi secondi vi pulirà completamente tutta la visuale il prossimo tweak è icon art e guardate cosa permette di fare apriamo musica e mettiamo in riproduzione questo brano a caso ricordatevi bene la copertina però vedete grazie ad icon art l'icona dell'applicazione che sta attualmente riproducendo un contenuto quindi non solo musica come in questo esempio ma anche spotify soundcloud shazam eccetera eccetera diventa uguale a quella dell'artwork di quel determinato contenuto che è in riproduzione ora per un'altra dimostrazione magari provo a mettere l'album nuovo dei coldplay ed ecco che appena cambio canzone senza un respringo e niente cambia anche l'icona dell'app musica abbinandosi con l'album il prossimo tweak è powerball ed è estremamente semplice tutto quello che fa è aggiungere questa riga in alto che ci indica in modo più ampio la percentuale della batteria cambiando anche colore in base al livello di carica alto in questo caso verde medio ossia arancione e basso che udite udite sarà rosso ok potete dirmi che abbiamo già l'icona della batteria in alto a destra ma vederlo su tutto il lato largo del display vi fa rendere conto ancora di più di quando siete a secco visto che è molto più visibile avete visto quel fulmine sullo sfondo questo è merito di weatherboard che permette di applicare immagini animate di fenomeni atmosferici sopra ai nostri sfondi andando nelle sue impostazioni vediamo che in alto c'è la voce sfondo se dovessimo scegliere sovrimpressione sceglieremo uno sfondo e quello ci sarà sempre oppure se guardiamo più a destra tramite le voci giorno e notte potremo anche scegliere due sfondi animati diversi che weatherboard cambierà automaticamente a seconda dell'ora uno per il giorno e l'altro per la io per farvi vedere vado con sovrimpressione e prova a selezionare uno dei più famosi come per esempio fulmini vedete che una volta scelto una rapida preview dell'effetto che posso vedere sia sulla schermata di blocco sia sulla schermata home passando da una all'altra tramite questo bottone in basso e poi premendo su imposta posso scegliere alla fine a quale delle due applicarlo ovviamente posso impostarlo anche su entrambe di effetti ce ne sono decine e decine alcuni sono ottimi per la springboard altri più azzeccati per la lock screen ad ogni modo io vi consiglio di provarli un po tutti alla fine mantenere quello che vi si abbina meglio con il vostro setup come nel mio caso la bufera a mio parere sta benissimo su questo sfondo del pianeta nella lock screen abbiamo poi app box 9 che aggiunge uno scorrimento verso sinistra nella schermata di blocco grazie al quale potremo visualizzare dei collegamenti rapidi di applicazioni da aprire seduta stante senza stare a sbloccare il dispositivo proviamo ad esempio ad aprire musica inseriamo il codice o l'impronta e bam dalle sue impostazioni innanzitutto potremo attivarla e disattivarla subito sotto nella categoria apps troviamo altre voci da regolare abbiamo di nuovo apps e qui come è intuibile possiamo scegliere quale applicazioni mostrare nel menu di app box sarà sufficiente trascinarle nell'elenco enabled grazie al grabber sulla loro destra io vi faccio l'esempio inserendo magari one password e app store e vedete che senza nemmeno fare un respring subito abbiamo la nuova lista di apps caricata ritorniamo proprio da qui alle impostazioni e vediamo questa volta la voce auto unlock che sostanzialmente ci permette di dire ad app box se desideriamo aprire le sue applicazioni senza che ci venga chiesto il codice per sbloccare prima l'iphone questo lo possiamo fare innanzitutto attivando la funzione del primo interruttore e subito dopo inserendo sotto il nostro codice di sblocco più sotto abbiamo anche fully unlock device che è una cosa un po diversa dall'auto unlock permettetemi di spiegarvi la differenza ora ho attivato solo auto unlock infatti vedete che se provo ad aprire un app da app box come musica per esempio questa si apre senza chiedere alcun codice a differenza di prima ma nel momento in cui provo ad uscire dall'applicazione stessa vedete che il dispositivo è rimasto bloccato e dunque torna alla lock screen se invece attivo anche fully unlock device come si intuisce dal nome una volta aperta un app da app box verrà anche sbloccato completamente il dispositivo infatti premendo il tasto home per uscire giungiamo diretti alla springboard pronta e funzionante ovviamente dalla voce auto unlock apps possiamo scegliere di eseguire questo sblocco senza chiedere alcun codice solo per determinate applicazioni e non per tutte quelle di app box basterà trascinarle in disabled in questo caso io per esempio ho lasciato l'auto unlock attivo soltanto per musica più in basso dalle opzioni potremo regolare le applicazioni per riga penso che tre non starebbero male inoltre è tutta una serie di grafica come la loro opacità che io provo ad abbassare leggermente scurire leggermente lo sfondo aprirle solo con un tocco continuato e non uno semplice eccetera eccetera sleep after invece ci permette di scegliere dopo quanti secondi lo schermo deve spegnersi quando abbiamo il menu app box aperto io provo a mettere mai e vedete che anche questa volta senza un respring tutti i cambiamenti sono stati applicati senza problemi l'ultimo tweak di oggi si chiama status peak ed è uno dei miei preferiti di sempre avete presente quando state guardando un video ancora peggio giocando a un videogioco e volete vedere semplicemente che ore sono se ci fate caso dovete abbassare per forza il centro notifiche oppure uscire dall'applicazione cose molto spiacevoli visto che interrompono per forza ciò che stiamo facendo con status peak facendo un singolo scorrimento verso il basso anziché mostrarci quell'inutile grabber che di solito appare ci abbassa direttamente la primissima parte del centro notifiche in poche parole la barra di stato senza interrompere nulla quindi e con su scritto tutto ciò che ci può essere utile quindi ora percentuale della batteria segnale e si integra addirittura con altri tweak della barra di stato come per esempio power bar che abbiamo già visto prima poi ovviamente la possibilità di visualizzare tutto il centro notifiche rimane basta semplicemente fare un altro scorrimento verso il basso quindi ragazzi questi erano i miei migliori tweaks di sidia usciti recentemente se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su per farmi capire che questa serie vi interessa seguitemi su tutti i miei social network e i link al mio facebook twitter instagram periscope li trovate tutti qua sotto in descrizione se volete aiutarmi a crescere potete tranquillamente condividere questo video il più possibile ma soprattutto ragazzi la cosa più importante iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo ad un prossimo video ciao ciao